Un Bologna che ricerca a se stesso il grande ricordo di un grande ex e il giro dell'Emilia che occuperà trionfalmente le strade bolognesi, la fortitudo che viaggia a quota 3.000 e la Virtus emozionata per l'esordio è una perdita importante per il volo. Questi gli argomenti del nostro TG odierno a tra poco. Questo programma è offerto da Mari Bosima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Mari Bosima è in via Triunvirato 15-2 a Bologna. Kinetech è in via Franchini 44 dal Tedo, telefono 339 69 01 445. Ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano all'informazione sportiva di quiBologna.tv. Andiamo a vedere le notizie che riguardano la nostra città, grazie anche all'informazione che ci è scaturita con la collaborazione del portale Sport Press. Parliamo di Bologna, molti assenti alla ripresa dei lavori del Bologna, impegni con le rispettive rappresentative nazionali hanno tolto la disponibilità di ben 9 nazionali a Stefano Pioli. Mentre si sente parlare in città di un possibile sostituto per allenatore, si citano tra i papabili Zenga e ora Reia e molto più sfumato anche un ritorno di fiamma per Franco Colomba, per completare l'allenamento Pioli è dovuto ricorrere all'utilizzo di alcuni primavera. Lavoro differenziato per Alibec e Cherubin, lavoro a parte per pazienza e terapie per della Rocca. Non proprio un quadro perfetto, un momento in cui il lavoro di questi giorni dovrebbe servire a ritrovarsi. Un'emergenza che forse comincia a pesare al tecnico bolognese, intanto una piccola rappresentanza del Bologna ha partecipato nei giorni scorsi e all'ultimo saluto per Giancarlo Cadè, ex allenatore rosso-blu, artefice della stagione 83-84 della promozione dalla C alla B. Tornando agli allenamenti seduta unica, oggi a porte chiuse. Parliamo ora di ciclismo, ritorno al Giro dell'Emilia, Granarolo, promosso dalla GS Emilia, Coni, UC, FC, Lega, Ciclismo e AOC, che è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e Provincia di Bologna e dai comuni di Modena, Bologna e San Giovanni Persiceto. A ospitare la partenza di una delle gare più importanti del calendario ciclistico italiano e internazionale sarà a Modena, mentre Bologna incoronerà i vincitori sulla collina del santuario di San Luca. San Giovanni Persiceto coglierà invece una delle microtappe del Giro. Verso le ore 12.20 di sabato, 12 ottobre, i corridori passeranno per la centrale Piazza del Popolo, dove grazie alla collaborazione con l'Associazione Sportiva dell'Itentistica Società Ciclistica Bonzogni sarà allestito il traguardo volante, primo trofeo città di San Giovanni Persiceto. Attenzione quindi al percorso per capire anche le eventuali limitazioni di transito. La fortitudo vicino alla meta, un primo traguardo mai quasi raggiunto, raggiungere e se possibile superare la soia dei 3.000 abbonamenti, era una cosa impensabile, un segnale di fidelizzazione unico in Italia. Intanto il coach Tinti oggi alle 17.00 sarà a disposizione ai giornalisti alla vigilia della gara di domani alle ore 21.00 contro Dertona. In casa Virtus si sta preparando l'esodio per una stagione...